Io sono STEM per passione, sin da piccola amavo la fisica. Io ho scelto questo lavoro, quello della ricerca scientifica, perché mi piace studiare. Penso che questi studi possano essere utili, possono avere un impatto, un'utilità per la società civile. Io sono STEM perché la ricerca mi permette di essere libera e creativa.